si donna b2 abbandona perché mi facciamo più cose e insomma se catturiamo a1 cade anche g1 mi sembra un disastro si re 2 calo c2 un doppio si e la barra si rialza però perché forse mi riattacca no ho perso un pezzo ah donna per b6 calo per a1 donna per b7 ah attacchiamo la torre e l'alfiera carina questa vediamola scusami dopo donna per b6 presa donna per b7 e in strutture 8 c'è donna d7 immagino e quindi comunque riprendiamo materiale si pazzesco no? è fatta così poi